E adesso risonò nel momento in c'è dell'impegno economico che avete dato a questa scomenzativa per un via dalla festa di Anterito Biero, che è la più vicina. È una festa che si fa di Mosù, che è la Gimba Dagna, che è la visione di contributo, Danilo? Senz'altro bisogna contribuirci a una festa così, perché ho cominciato a dire che è questa festa, dopo che ho vogliono dire che non è che non ci contribuisce, l'APT, il Comune, la Regione, la Provincia, le ducine, se sapete, senza altri, dopo che non ci dicono, in base a quello che si ha, se non ci fare, magari se il canter si crede più, perché non c'è la crisi, non c'è questa roba che ho, se non c'è più, se non c'è più, dopo, domani non c'è nulla di dare a mente con chi si trova, non c'è chi si vende o 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 si vende, allora non c'è l'ora, l'ora va. Ma con te vengono metto a bilancio circa per rendere una festa così, in te, con te vengono, per dire a 30 e a 350 mila euro per le feste vigiliane, no? Sì, beh, non c'è una roba molto più grande, noi come Tobie, si perde 50-60 mila euro. Quello è il budget? Il budget, c'è il budget, diciamo, previsione delle spese, non è che c'è un budget così grande, no? Da quando, tra l'amico che si vada, che si tira i te dute, la doventa bene, perché alla fine, vuol dire, gli edu scontenti, insomma, non c'è, se resta a sé che alla fine, c'è da già o magari c'è che c'è chi si grope, c'è un piccolo riconoscimento, che non possiamo pretendere proprio che un demò l'ora e per noi ha volontariato fino alla fine, no? Però, voglio vedere, non c'è in base a qualche cosa. Ma se ne è volontariato, quindi so bene essere volontariato o no, Danilo? Ah beh, che lo si connessa esse, però, non posso pretendere che... Il tiere è ben volontariato, non so bene nel dire che il tiere è ben volontariato, no? Cioè sì, lo, chiaramente, però vuol dire, se in grope l'ora, non c'è chi va a se mangiare una pizza o alla fine, ma non c'è perché che sgedere se che cos'è, ha manco, il GPL è sempre aperto come comitato sotto la veduta della festa, e magari che si vanno in maniera una pizza o una roba scocita, perché se stessi insieme, su questa roba che ho, vengono fare idea a neve, per l'an che vengono, tirare la gente. Giugno, vengono pagi la riunione, allora dai. Pagli la riunione. Pagli la riunione. Non è che l'uno, però vuol dire, sotto questo aspetto, ecco, non è che insomma alla fine vengono tutti i soldi, che sa che hai pensato che agite una festa o un dolce, se comprare l'autonica, insomma, se guardano, che scuola, posso ben dire, foro a dritto, insomma. Sì, devi appare più o manco, per dire, con qualche tirare di ite che le ha incontro alla spesa. Sì, dopo, non c'è, che vuol dire? Non c'è molto dei soldi che non c'è ruolo di contribuzione a parte la festa, non c'è comprare molte cose per tutto l'anno per la festa, non in prestazione molte giù per la valle, così, no? Non c'è filmato, così, vuol dire, non investire, te robe se non c'è che resta. Allora, diciamo, non c'è per guardare di far giù il meglio possibile, ecco. E dove il paio ben, come dimesso argomento, c'è, per EDI? Ma sì, c'è la festa, la ite, grazie, c'è, hai contributo, c'è, che le spavano, c'è, qualche azienda, c'è, ne devi dire, dicono, dicono, che la stessa è in paio, ecco. Noi, come ringraziamento a questa associazione, che anche le due donne si trovano due insieme a Tei Mucion, vengono attrezzando una bella marina, e con quella, gli educi contente, stiamo a posto. E, a bilanza, previsione, di spesa, una festa così grande, adesso che l'attamonte, potete anche la commettere? Ma sì, più o meno, adesso che dice Danilo, che sono lì, insomma, dopo dopo, dopo il Valcana, se compro il più arte, così, e in base a che, logicamente, che si spende complessi, e di mangiare, se per caso, dopo dopo, ci metterete, comprare Valgazzebo, magari Valcana, da cozinare, o cosci, insomma, lecce i problemi a queste feste, insomma. E con la Magna Diva, e la roba da Beiber, che venete, non servono a securare giù tutte le spese? Ah, sicuramente no. No, perché le spese, le grani, la IT ha un generatore, ha un impianto corrente da mettere a posto, a un'arte per fare su queste tettoglie, che sgazzebbi, luci complessi, tutti gli attori che fanno queste contie, le, cioè, le troppe. Con che che si va a dargli del mangiare, beh, io vero, sicuramente, non si starebbe in pensio, ma secondo me, se io dire, lasciarlo, perché non lo starebbe in pensio. E Matteo, è comune se sanno i vif tempi del dottorì, e mi sembra che i soldi da mettere a bilancio per i comitati, non c'è troppo, non c'è a Ciampe delvo, e come facete a riperire, a gira, a chiedere le risorse? Ma noi, in questo momento, diciamo la più grande entrata, lì, che è la del comune. Il comune è il miglior finanziatore del comitato, in questo momento. L'è da dire che se vai in alto con un calendario belotto, e fornì come quello dell'anno passato, o come che è il Dekistan, ci pensi che gli operatori turistici, dai alberghi, o eventualmente del negozio, non si è che la denone di arnia, insomma, un piccolo contributo per uno sponsor o per una pubblicità. Questi, adesso, non inceppero a zira, a vedere dei tors su soldi, in questa maniera, e invece, non, disonare delle manifestazioni abbastanza limitate, disonare roba. se mi dici, scherazza è una manifestazione perché ogni dì, o ogni dì, fuori per l'istà, con te, con te, mettete a budget per l'istà di manifestazioni del comitato? Per l'istà, noi abbiamo ben ben definito, non abbiamo, perché con il ruolo, ci sono vari preventivi, delle bande, o dei gruppi, di folco, queste cose che ho, da poco me a Duce, logicamente, che anche da fare la sua esibizione, zecche da beversi, con Gio Frears, se non le zecche di più, una marina ogni tanto, chi che vende a Lenci, e allora, logicamente, le spese, che nessuno, oltre al comune, o alla cassa del comitato, tira fuori, insomma, e ti vende incontra con i vari operatori, che ti posano, e ti vende incontra, mingosso i prezzi, della bibita, e so che che l'è, ma dopo, autonovano fuori, insomma. Danilo, non c'è la moglie, che pensa, che col tendone, Crousbiencia, e pompieri, fai cassa, tutto l'anno, ma, già non vedo, i conti, non è proprio così, perché c'è il tendone, non è che lascia, tutto che si vada, no? Ma no, mio Dio, il tendone, non c'è il gran costo, cioè, non so, ma magari la gente, dopo non vi puoi dire, che c'è tutta la massa di gente, ognuno lascia chissà che, magari, un che si vede, un mezzetto di eva, allora, non è che un, il pieno, giovedo vedere la finchì che resta, perché, dopo, in cielo, su questa roba, se te fessi che da belle, se sa ben che costa, no? Allora, giovedo vedere, che la dovente la fessi, Danilo, perché la fessi in cielo, con questo sparbuda, se no te la fessi, un vent'è del ves, la sin finisce, insomma, da solo, ma per dir tu, che c'è tecnica di musica, c'è un bel complesso, di chi che veng, la sve, da sera, o vengono, con tanti, con tanti domani, e al tendone. Ah, bene, se te fessi a vedere, sulla musica, è di ogni sorta, un buon gruppo, tipo, non so, parliamo di, un buon quintetto, ma, in questo momento, tipo, non so, godri quintetto, parliamo di Grazer, perché, la gente, l'uomo, chi l'uomo va da 4.000, 5.000 in su, non so, l'uomo ha perduto, 6.000 euro, dopo, niente di piacere, niente di manco, però, attraverso la qualità, l'uomo, perché, se te vessi, non c'è il mingol, un certo giro, te tendone, non c'è, portare la musica, perché, chi lo, si attira, non c'è, dò gente, di ogni fan, che la roba, non c'è, Ma, chi è che ti piacesse, portare, al tendone, di John, che ti piacesse, proprio, ti dici, che è bello, se vengi, sa chi? Ma, oggi, quest'anno, le altre, anche i paesei, il vendersero, sarà una novità, le, di, Jung e Paul Dauer, no? Quello, in gruppo, che l'era entrata, che c'è, stagio, in un tendone, che non, io l'ho sempre occupato, che è il periodo, no? E quest'anno, non c'è, e tramite, sempre, che dice Dante, che se non c'è, molti amici, con questo, non c'è, un buon prezzo, posso dire, molto, molto, e ne ha proprio fatto, un bel sconto, proprio, perché se non, vuol dire, essere amici, su questa roba, dei da alla fine, no? se vai, niente, tutte, ho lanciato, non c'è, da tre gruppi, che, dal tendone, ero, mi ricordo, non c'è, tre anni fa, i Draufgang, per dire, che i bici, che ero, già da tre, oltre, da, non c'è, chi, oltre, tutti, non c'è, com'enzia a venire, moglie, i miei, che stanno, la sabbia, da sera, già da zona, per dire, come, per Buda, e tutte, hanno detto, con ton su, proprio, mingol, con, se per dire, non c'è su, che, il vero, poter fare, pulito, insomma, di uno, e, su, sta roba, che ho, non c'è, da moglie, perché, dopo, se dov'entra, ha dovuto mingol, un giro, dopo, questa gente, te conosce, se non tendo, un, chiama l'autor, e, è, ceduto, mingol, fessa, il reclam, no? Adesso, proprio, questo ultimo, tocchetto, del programma, vuole risonare, no? Il reclam, cosa facete, avete, 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 stessa, con i canali, che dovete, per, avete, conoscere, Edi? Ben, sicuramente, l'azienda, la PT, dicono, das una gran man, dopo, ven fatti, dei libretti, che va fuori, sono fuori, circa, la metà, di giugno, la fin di giugno, dicono, con questi libretti, e via, per tutto l'anno, ho fatto, dei piccoli placacci, così, da darte, tutte le attività, da maniera, da farla conoscere, dopo, gli ultimi tempi, ven fatti via, per radio, e chi, ho le canali, che noi, insomma, ecco, dove, infani, provare su internet, tramite l'agenzia, di Roma, e noi, abbiamo detto, dicono, hanno avuto troppa gente, dicono, dal Veneto, con la ragione, però, che l'anno, che era, un canaciasa, che ho, che l'ambiente, noi, ha fatto, che per piacere, l'andone, metto fuori, dei costi, che non, podani, sopportare, allora, abbiamo deciso, di non togli più, e, sono in and, con chi, hanno sempre fatto, insomma, ecco. Stimate, che, te, di se mezza, ta monta rue, con tanta de gente. Eh, le mingole in gradire, perché, noi, ha un mingole, che che vedono, sulle corriere, sì, sui pulmins, che va in antendo, però, chi che viene, è extra, non si sa, comunque, sono sulle, 8, 9, mille persone, insomma, ecco. I batte, da ciancii, o no? Ah, non so, te tre, disti, giunti, tra il vendere, la domenica, le se ne stai, perché, te paesi, te vedi, momenti, che le piene, e momenti, che ne do tre, che zira, sabe da sera, per dirle, ben vera che, già mi ricordo, un anno fa, che l'era, stato, veramente, il tempo, l'ha di da, no? Sera, su un piazza, proprio, di Danza, in Florian, che vede, giù, via della villa, la piazza, tutte, in tocca, verso, su, per, da Ronk, no? L'era, pieno, tutto intorno, quindi, mi pensavo, stasera, la va proprio ben, cioè, tutto intorno, gente l'era, ma oggi, tanta, che non si, erano mai, non c'è mai, guardare, fatto conto, di, da se, fare una stima, no? Perché? E reclama? Ma, beh, reclama, senza altro, che vede, dove, 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 se, magari, tolpiù occasion, proprio, inceper, tenirtel, che, tu rischi, dutkant, ma, e che, perché, che, ve, dire, mui, e che, sta robesco, perché, do, gente, da, cemina, insomma, non, le, turismo, alla fine, insomma, ecco, che se dice, è, reclama, insomma, deve, sempre, per, te l'oreia, ecco, te l'oreia, che, un sapie, sempre, che zira, se non la ven, subito, te l'esmentiera, se non ti smingola. Va bene, due al paio, aduce, bene, vendere, ai otto, demesela, poi, ai set, demesela, appuntamento, o l'è, da che ora? No, lot, ne feldies, allora, lot, vender, che fosse, dalle snef, se trovano tutte le piazze, e, se, potreste dire, ma, vorreste, l'ultima roba da dire, vorreste ringraziare, mo, e, solo a tutti, tutti i paesi, chi che ne deve, alla letta, tutti i tobiel, la cesare, se la corse, e, tutti, chi che ne deve, da proprio, da tutta la valle, perché le, tutti, che vengono a dire, insomma. Dove il paio, edi, appuntamento, o l'è, per voi? Allora, il 5, de'aust, vi spettiamovi in piazza del comune, per l'apertura, di sta festa, ed oggi, il 7, vi spettaranno, e te va al San Nicolò. E, tolle occasioni, ci giù, per già dire, andiamo al paio, ad usci, dalle tese, ad usci, volontà di, a scena dei do, e, sono in una cossita, di valpaio. A ti, e, Matteo, vuoi, dei nanti, qua? Non si ricorda, la nostra festa, che è l'Encic, la diomindamont, che è il Kines, come ogni anno, è una festa, che viene fatta, organizzata dal CAI, in collaborazione, col comitato, e che è l'Encic, questa è una festa, che viene portata, da niente, da parecchi, non so se, a che te, in cien, che si, ma le, veramente, moglie che la va. Deve il pai, a Danilo Planckesteiner, per la festa, te anteritobie, e per il tendon, a Eddie Croce, per la festa, da Tamont, e a Matteo Rizza, del comitato, manifestazione, di Ciampedella, noi, con facce di faccia, se vediamo in che ora, stasera bene. di Ciampedella, di Ciampedella, di Ciampedella, di Ciampedella, di Ciampedella, di Ciampedella, di Ciampedella,